avviso scoperto l'informazione senza veli con Matteo De Micheli buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di avviso scoperto l'informazione senza veli questa è una puntata direi oserei dire eccezionale perché il 13 di febbraio sono stato a Mantova insieme ovviamente al all'operatore al cameraman e cosa sono andato a fare a Mantova sono andato a Mantova perché a Mantova c'è lo studio del dottor Giovannini che in quel giorno riceveva diversi danneggiati e ovviamente c'era anche la presenza del comitato Fortitudo quindi ho documentato il tutto ecco erano appunto presenti anche oltre al dottor Giovannini grazie a Piccinelli e Cinzia Toetti che sono presidente e vicepresidente dell'associazione Fortitudo Giovannini Piccinelli e Toetti chi segue la puntata lo sa erano già stati ospiti della trasmissione ma ho deciso di andare a Mantova proprio per documentare una giornata tipo nello studio del dottor Giovannini quando siamo arrivati la sala d'attesa era veramente gremita di persone e i pazienti e i loro accompagnatori ma mi sembravano veramente tanti così forse un po' ingenuamente ho chiesto se fossero tutte persone danneggiate e la risposta purtroppo è stata affermativa decine di persone quasi tutti giovani tutti hanno accusato problemi e patologie in seguito all'inoculazione la maggior parte di loro ha fatto l'iniezione perché non aveva altra scelta non potevano permettersi per esempio di restare senza lavoro così questa umanità così diversa e proveniente da tutta Italia si ritrova qui nello studio del dottor Giovannini unità da una storia di dolore sofferenza e malattia una storia di dolore che per tutti inizia dopo l'inoculazione ognuno ha una storia diversa ma molti molti punti in comune nessun medico che prenda in considerazione la correlazione la difficoltà a trovare un medico disposto a seguirli la difficoltà di segnalare la reazione all'aifa è in grado è un dottore che sia in grado di seguirli almeno anche di di lenire le loro sofferenze sono tante le persone danneggiati sono veramente tanti però solo quattro accettano di farsi riprendere e due di questi ha volto ha volto coperto infatti adesso poi vedremo anche questi contributi la la sala delle della visita dove si svolge proprio la vera e propria visita anche questa è insolitamente affollata perché oltre a Giovannini c'è appunto Grazia Piccinelli e la Cinzia Toetti e c'è anche un altro medico è però questo medico ha preferito restare anonimo l'esame del dottor Giovannini è estremamente semplice preleva una goccia di sangue dalla persona con un pungidito e la mette su un vetrino dopodiché si passa al microscopio elettronico è quello che viene fuori che è decisamente impressionante i globuli rossi sono visibilmente impianti grazie a tutti Grazie a tutti.